Buongiorno, buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati per Occhio ai giornali, sono le 7.30, siamo in diretta e quindi sfoglieremo naturalmente gli inserti locali di Resto del Carlino Messaggero e Corriere Adriatico, non prima però di aver visto l'almanaco del giorno e le previsioni del tempo, oggi sabato 9 aprile, Beato Tommaso da Tolentino, missionario, il sole è sorto alle 6.34 e tramonterà alle 19.45. Facciamo una capatina anche prima di guardare gli amici della protezione civile che cosa ci dicono nell'esterno webcam sul puntato sul pincio, vedete insomma rispetto ai giorni scorsi almeno la foschia si è diradata, non c'è, si presenta un bel cielo con delle sfumature anche tutte primaverili. Bene, previsioni del tempo per sabato e domenica, cielo nuvoloso con maggiori addensamenti nelle zone interne, vedete la costa è contrassegnata dalla simbologia metà sole e metà nuvole, precipitazioni deboli sparse nella prima parte della giornata e più insomma maggiormente diffuse nella seconda parte nelle zone centro-meridionali della regione, quindi vedete la pioggia interesserà poco il versante costiero. Domani, domenica, sarà una giornata un po' più tendente al bello, inizialmente poco nuvoloso, però sereno nella tarda mattinata e nel resto della giornata. Residui deboli piovaschi nelle prime ore della giornata, però nella parte meridionale, vedete, della regione le temperature sono in aumento come i massi, come valori massimi e lieve diminuzione dei minimi, quindi una forbice un po' più ampia, più escursione termica. Vediamo le previsioni per lunedì, il primo giorno della settimana entrante, ecco, molto scar nelle didascalie, quindi insomma cielo sereno, poco nuvoloso, nessuna precipitazione e temperature in aumento. Questo è l'andamento per il weekend e per le prime ore del lunedì mattina dell'inizio della settimana. Vediamo i giornali, partiamo dalla pagina di apertura dell'inserto del resto del Carlino che apre tutta la sezione dedicata a Pesaro e provincia e fotonotizia dedicata alla tragedia che ha visto purtroppo coinvolta una ragazza che finisce fuori strada, fa un capitombolo con l'auto, si cappotta più volte e purtroppo perde la vita. Gloria morta tra i fiori, questa è la titolazione del Carlino. Poi in testa falso ispettore IMSS punta alle suore, la lista dei conti correnti a Panama vede la comparsa di un pesarese e manicomio, c'è un mistero perché sono state trovate delle armi. Vediamo di che cosa si tratta, ci sono dei lavori che riguardano l'ex manicomio a Pesaro, gli operai hanno trovato granate e proiettili giallo naturalmente su chi li abbia nascosti lì, ecco la volante della polizia che esce dall'uscita posteriore del San Benedetto trovati dagli operai durante la manutenzione. Arriva la polizia, si tratta di granate di matrice tedesca, tipo seconda guerra mondiale, però anche dei proiettili nato 765, decisamente più recenti. Quindi chi ha portato le munizioni in quel luogo e chi ha portato lì, chi li ha nascoste, stanno indagando gli agenti della polizia. E poi la tragedia della ragazza coinvolta, gloria alle 4.30 in questo pauroso incidente, era apparsa cosciente ai primi soccorritori, però non ce l'ha fatta la 29enne di Casinina che ha perso il controllo, rientrava ad una festa di compleanno, qui vedete nelle foto del resto del Carlino, insomma tutta la sua vicenda. i colleghi del Simpli, che era il supermercato dove lavorava, lei faceva la differenza ed era un punto di riferimento per tutti noi, faceva la differenza, è appunto un modo di dire per dire che qualcuno ha qualcosa in più da dare. La piaga dei furti, i ladri, i truffatori non risparmiano neanche i religiosi, falso funzionario dell'Inps tenta di truffare una suora, mi consegni 3.500 euro, l'esca era, serve a liquidare pensione di invalidità, quindi sapeva di questa cosa, ha chiamato le sorelle del Sacro Cuore in via Mendola, sapendo dell'esistenza di questa pratica, quindi era probabilmente informato di questa cosa e ha tentato di estorcere questi soldi. Però non è la prima volta, perché pare che questo soggetto abbia provato in altre suore dislocate nei conventi della nostra provincia, chiedendo soldi per pratiche previdenziali però vere. Insomma, quindi c'è un risvolto da approfondire e ognuno ha i suoi target, lui aveva deciso il target religioso per compiere le sue truffe. A Fano invece si parla nell'inserto di Aset, la fusione di Aset è un altro fronte caldo oltre quello della sanità, il PD ha chiesto naturalmente di farla al più presto possibile, Santorelli invece dice che bisogna mettere più vincoli pubblici e più trasparenza in questo accordo. Poi Teodosio Auspici, di Sinistra Unita, parla delle farmacie e l'accordo con Cantiano dipende dal fatto che gestiamo la farmacia. Ancora nelle pagine del resto del Carlino, un noto commercialista fanese, Enrico Maria Renier, ha raggiunto un incarico importante in una banca, banca immobiliare in carico in questi giorni, il commercialista entra nel gota della finanza, banca intermobiliare SPI, è una delle prime 15 banche d'Italia ed è quotata in borsa, quindi è un incarico prestigioso e poi si prevede anche il BIS per il professionista fanese presso il gruppo Veneta Banche. Si parla anche di aeroporto, di spalla, qui botta e risposta tra il Movimento 5 Stelle, Omiccioli e Gianluca Santorelli che aveva detto la sua sulle spese, sugli investimenti fatti nell'aeroporto, ma Omiccioli non si convince e dice il Comune tuteli i suoi interessi. Andiamo nelle pagine del Corriere Adriatico, vi faccio vedere una notizia che riguarda tutta la nostra regione, c'è una missione che si sta compiendo, che si compirà fra poche ore in Cina, Ceriscioli va all'attacco della Cina, uno spot per le marche, sappiamo che la Cina è uno dei mercati emergenti a livello mondiale, quindi esserci dentro non fa di certo male la nostra economia, prima missione del Governatore e prevede sei giorni fitti di incontri su commercio, logistica, polveri sottili e turismo, quindi tutto quello che può essere fatto di positivo come accordo e che porti turismo e attività commerciali anche in quel continente. Nella pagina di peso invece dell'inserto del Corriere Adriatico, cronaca, grande risalto a una lunga notte in balia di una banda di ladri, colpi in serie in diversi quartieri della città, reazziati e danneggiati, negozi e case nonché attività commerciali, qui nella foto ne vedete una di quelle presi di mira e poi compare un nome di un pesarese, non ho conti segretti all'estero, l'avete visto nella pagina di apertura del resto del Carlino, Alessandro Lelli, prima manager di Colossi Internazionali, oggi docente di economia, per ricordarvi chi è e perché è un volto conosciuto, è colui che parlava delle bombe che c'erano a largo delle nostre coste, quindi è stato sulle pagine dei giornali diverse volte con questo argomento. è nell'elenco dei 100 nomi italiani dei Panama Papers, ma lui dice non ne so niente, cado dalle nuvole. La pagina di Fano invece del Corriere Adriatico riporta quello che è stato l'incontro con i giornalisti, la stampa ieri del primo cittadino dove si è parlato principalmente di ospedale e del sito di Chiaruccia che ora è suffragato per la sua validità anche da uno studio fatto fare appunto dai funzionali del Comune, da Massimo Seri, che appunto ribadisce che Chiaruccia è meglio. Ecco lo studio dei tecnici del Comune sul sito più funzionale all'ospedale unico, non ci sono vincoli ambientali, insomma sono tanti i plus di questo sito per Massimo Seri. Area pubblica di 30 ettari, tutta pianeggiante, attigua alle uscite della 14, vicino c'è l'aeroporto, insomma tanti plus perché questo sito venga portato avanti con decisioni. E poi Fano ottiene dai pediatri la bandiera verde e quindi un buon riconoscimento che sicuramente incentiverà le famiglie con bambini a passare le vacanze qui nel Fanese perché giustamente chi ha figli al seguito ha piacere di trovare qualcosa che sia a misura di bambino, a misura di figlio. Fano e Valcesano, la pagina che riguarda l'interno, siamo a Marotta, passaggio a livello, quest'opera pubblica che si dovrà fare, che vedrà la soppressione di questo passaggio a livello per favorire un sottovia, si allarga il fronte del no per la soppressione per questa opera, contro la chiusura anche i 5 stelle che quindi si aggregano a quanti non lo vogliono. Se vinciamo ci impegneremo a fare un passo indietro e quindi questa è l'osservazione dei 5 stelle sul passaggio a livello, andiamo a vedere a Senigallia, l'inserto di Senigallia parla di cronaca di un altro incidente purtroppo che è costato la vita a un nigeriano di 38 anni, travolto allo stop, era addetto ai servizi cimiteriali, è stato investito da un mezzo per il trasporto di disabili. Poi si parla di un'aggressione, un'aggressione shock, denunciato un lavavetri, si tratta di un 48enne rumeno che vive nell'ex Montè, bisogna il crociard malmenato all'incrocio, è fuggito dall'ospedale. Pesaro, per quanto riguarda il messaggero, questo è l'ultimo giornale che vi proponiamo, parla appunto dei conti offshore e della presenza del Pesarese, Panama Papers nella lista spunta il professore e l'ex manager Lelli, si parla anche appunto di ospedale e il PD Pesarese è anche qui sul sito idoneo alla carica sull'ospedale a Muraglia, quindi il PD Pesarese accantona sempre di più, piace sempre meno, Fosso sei ore, mentre appunto il sindaco di Fano insiste per Chiaruccia, avanti con Muraglia per il PD. I Democrat presentano una mozione per difendere la prima scelta del sito. Il meteorologo ci dice da domani il tempo migliora. Bene, vediamo appunto la ridda di furti che c'è stata appunto nel Pesarese, in questa pagina del inserto del messaggero si parla di tutto quello che è avvenuto, ladri nella cameretta ma il bambino dorme nel letto della mamma, solo per un caso mio figlio non se li è trovati di fronte nella notte, razzie anche in altri negozi, garage ed altro. Quella forse di tutte le evenienze è la peggiore che si può prospettare, quella di trovarsi i ladri in casa a notte fonda, insomma veramente penso che sia un'esperienza a dir poco traumatica. L'ultima pagina all'inserto di Fano del messaggero, anche qui ospedale unico, il sindaco rilancia Chiaruccia, presentato appunto il progetto, quello che è insomma uno studio approfondito, vedete qui è nel rendering la tipologia di realizzazione, quindi siamo proprio nella zona di Chiaruccia a ridosso di tre ponti. Poi si parla di economia, i conti tornano, scusate niente aumenti delle imposte, è presentato il bilancio alla Giunta, l'assessore dice manovra naturalmente in perfetta parità, dopo un difficile lavoro di limatura, specialmente sulle spese correnti, il bilancio è stato approvato dalla Giunta, adesso toccherà al Consiglio. E poi vi segnalo una cosa, ieri è stata presentata la Colle Marathon, insomma la gara agonistica che da tantissimo tempo richiama atleti di levatura mondiale a Fano e nelle zone limitrofe sulle nostre belle colline, parallelamente ci sarà un evento un po' meno impegnativo dal punto di vista agonistico, si chiama Fano for Fun, la maratona è un gioco, è una vento parallelo che non attraversa i 42 km del percorso ma è una passeggiata così sportivo-culturale solo di 4 km, senza limiti di tempo, insomma un bel modo per passare quest'8 di maggio, mentre gli altri si danno battaglia a livello agonistico nel percorso, si ha la possibilità di fare questi 4 km in scioltezza per vedere le bellezze del nostro territorio. Bene, questa era l'ultima notizia che vi proponevo, grazie per essere stati in nostra compagnia, per aver seguito il primo appuntamento con l'informazione di Fano TV, la rassegna stampa o che i giornali torna lunedì mattina alle 7.30, naturalmente sempre a vostra disposizione, il nostro sito internet e la pagina web per essere sempre informati. Buon fine settimana a tutti voi e buona domenica anche. Buon fine settimana a tutti voi e buona domenica anche.